Musica Dai ritratti ai pesaggi, dalla fotografia macro a quella stratta, sono gli scatti dei soci del Fotoclub La Chimera, i protagonisti della mostra del Chimera, inaugurata questa mattina nella sede del Fotoclub sotto le loggie Vasari in Piazza Grandi ad Arezzo, 52 gli scatti in esposizione di 13 soci del Fotoclub per raccontare così l'intero campo della fotografia in tutte le sue sfumature. La mostra sarà visitabile questo fine settimana nel primo weekend di settembre in concomitanza con le due edizioni della Fiera dell'Antiquariato. L'iniziativa rientra infatti tra le numerose collaterali della manifestazione che ogni mese richiama nel centro storico aretino e non solo numerosi appassionati.